G, come guardate, guardate, cerchiamo di essere seri, si può mica sempre scherzare, alle volte capita, uno torna a casa e c'ha quell'uggia così, un po' di tristezza, di nervoso, magari un lavoro non fatto fino in fondo, una cosa non venuta perfettamente bene, insomma quel contrasto che a un certo punto ti è apparso improvviso sul sentiero della vita, capita, può capitare e guardate, c'è poco da fare, l'unica cosa a quel punto è farsi un risotto, un risotto semplice, io lo facevo sempre ai miei figli quando erano piccoli, per abituarli alla soluzione emotiva di tutte le questioni, magari erano lì a casa, quattro figlioli, di tutto, litici, urli, berci, salti, una volta me ne vedi apparire uno dalla finestra del secondo piano, passava così, con una bicicletta, aveva fatto una lampa, via, insomma a quel punto li prendi, li metti a sedere, ti prendi, ti metti a sedere, prendi chi ti pare, anche te stesso e ti metti a sedere dopo aver cucinato questo risotto, semplice, semplice, mezza acqua, mezzo latte e un po' di pomodoro messo dentro, blu 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 blu, quasi bollito, ma non troppo, deve poi raggiungere una sua garbata densità nell'esprimere gli amidi che si compongono al latte e all'acqua, con un pezzettino d'aglio che è stato messo dentro a bollino, insieme al pomodoro piglierà questa colorazione un po' arancionata, burro, sì, olio, pure, tac, la bandiera italiana vi deve venire fuori a un certo punto, e poi il parmigiano generoso, e una grattugiata di pepe, perché il pepe attiva le funzioni epatiche, datemi retta, poco ma buono, e vi fate questo ridottino così, brodoso, ma affettuoso, guardate, date retta a me, una delle cose più buone del mondo.